Raffaele Balzano, dallo scorso settembre, è il nuovo dirigente scolastico dell'Ipsia Benelli, un istituto superiore che ora ha importanti prospettive anche in ottica futura. Infatti lo scorso consiglio provinciale di Pesaro Urbino ha dato l'ok all'attivazione di un ulteriore ampliamento formativo del vostro istituto. Sì, abbiamo richiesto nuovi indirizzi e ovviamente la provincia al momento li ha approvati. Questi indirizzi riguardano sia i corsi diurni sia i corsi serali, in particolare abbiamo chiesto servizi sanitari con la possibilità della qualifica al quarto o quinto anno, sia nel diurno che nel serale. Poi abbiamo chiesto un'attivazione per l'operatore informatico sotto MAT, manutenzione e assistenza tecnica e abbiamo chiesto un corso serale sugli ottici che abbiamo già attivato nel diurno con modalità a distanza. Ecco, diciamo l'obiettivo è sempre quello di dare la percezione e le basi solide perché questa scuola accorce un po' la distanza con quello che è il passo successivo verso il mondo del lavoro, soprattutto su professioni che hanno un mercato importante. Sì, diciamo che noi il nostro compito è rispondere alle esigenze del territorio, quindi prima di fare queste proposte abbiamo comunque ascoltato le esigenze di diverse aziende e di quello di cui avevano appunto bisogno all'interno, quindi di queste professionalità. In particolare per gli ottici abbiamo avuto una proposta da parte di un'azienda che già aveva un elenco di persone interessate al diploma come ottico e che già lavorano presso questa azienda, quindi si parla di corso serale. Poi ci sono relazioni importanti per quello che riguarda l'associazione di categoria, università e ITS. Sì, in particolare per il settore informatico appunto che stiamo attivando c'è la possibilità di attivare un percorso 4 più 2, quindi la collaborazione con l'ITS che si aggiunge a tutte le altre collaborazioni che abbiamo già in corso.